Siamo partiti da qua, in piazza, tutto bene, è arrivato via Ricasoli, altezza, via Cisar Peno Su, io ho cominciato ad avere dei problemi alle gambe. E nel 28 agosto 2016, quando il cuore di Paolo Gialli, 67enne a Retino, si fermò, un arresto cardiaco nel corso della sfilata della giostra del Saracino. E lì mi hanno cominciato a chiedere delle cose, a fare dei controlli, ma io ero tutto a posto, dopodiché io mi sono svegliato e ho detto, ma io cosa ci faccio qui in questa ambulanza? Dice, guardi, lei è andato in arresto cardiaco e adesso aspettiamo l'altra ambulanza per portarlo in ospedale in cardiologia. Oggi vive grazie alla tempestività dei soccorsi ed adesso è formato per salvare altre vite. Devo anche qui in questo momento non esserci qui a fare l'intervista, ecco, questo è importante dire che oggi vivo abbastanza bene. Il 14 maggio in tutta Italia si celebra il Defibrillation Day ad Arezzo in piazza Sai Jacopo, una mattinata per comprendere l'importanza della prevenzione cardiaca e i vantaggi del pronto intervento. E oggi siamo qui in piazza per farvi vedere come in tre semplici mosse è possibile salvare una vita. Nella provincia di Arezzo sono stati installati oltre mille defibrillatori, 34.000 invece le persone formate. Guardate, il rapporto è semplice, più defibrillatori si mette, più persone si forma, più vite si salva. Il Covid ci ha fermato un attimino, la nostra sopravvivenza è scesa dal 38% al 20%, dobbiamo recuperare, non possiamo vedere di perdere le persone perché c'è un virus a giro. La prossima sfida è quella dei grandi condomini. Perché la maggior parte delle persone muoiono in casa e non si può pensare ad avere condomini sprovvisti di uno strumento salvavita.